Grazie a tutti Ciao ragazzi Ragazzi oggi questo è un video Non tantissimo lungo però Un video molto Come si può dire Un video di fine anno Un video di fine anno Per chiudere l'anno e quindi Il tema del fine anno Botti di capodanno Una cosa ragazzi Quest'anno visto che sono riempito Di compiti di chiesto in quinta Sono pieno di compiti di chiesto in quinta Quindi quindi bomber Non ho mai tempo Di scoppiare i botti tra le tre e tulo Non saprete potrei fare i video Non saprete potrei fare i video Su botti di capodanno Quindi se non li faccio a me Mi spiace tantissimo perché comunque Un video Molto bello, molto carino Come abbiamo fatto altri anni Che facciamo dei nostri botti Tutte queste cose qua Vabbè ragazzi Quindi ci stai dicendo bomber Che forse Non si farà quest'anno Non si farà Ok quindi diciamo Ci volevi di questo questa volta Quindi non hai comprato manco un botto No Aspetta ma non dì manco un botto Io l'altro giorno qua T'ho visto Vabbè diciamo che questi Tu non li calcoli T'ho visto questi qua Ah diciamo questi E' uno scoppiettio Quelli che avevi comprato Ma si diciamo ecco Questo è il tuo arsenale Proprio perché non hai avuto tempo Vero bomber Perfetto A partire questi Sono privoli di rastrano Quindi pensate un po' Come sto messo Ragazzi non ci perdiamo Anche iniziamo subito il video Beh a tutti ragazzi Iniziamo subito Non è vero Bugia Bugiardo di un bomber Eccolo qua Super bomber Aspetta quindi alla fine Dopo tutte queste Sta marea di cazzate Che ci hai raccontato Bomber Dici No però scusate Il video di Capodanno Che non si fa E' vero Ma che no Mo vediamo Quindi Quel video di oggi Che ci vuoi far vedere Botti di Capodanno Quelli che hai comprato Bene Partiamo Iniziamo subito Dalle Vedete non fa un video lungo 15 minuti Se no non lo guarda nessuno Eh sì concreto Molto veloce Dai ragazzi Allora Quindi che abbiamo preso Subito La fontana di Neltuno La fontana di Neltuno In diverse colorazioni Una è rossa Red Una è green Cioè verde Una è orange Cioè arancione E una multicolore Per la modica Somma di 8 euro e 90 Mettiamo qua La fontana Poi Questi ne abbiamo già provati uno Sono parecchio potenti Ah bene bene Questi sono Ovviamente come Faccio ne vede uno Bomber Eccolo qua Quelli nuovi Ricordiamo che tutti i botti nuovi Devono avere la miccia Sì Per legge Non comprate botti Ovviamente dirlo a tutti i bomber Sì Non comprate botti senza miccia Quelli vecchi I vecchi Quelli astrucci Io vorrei dire una cosa Che la crana Mi ha messo in mare Con frana Le botti senza miccia L'ha acceso E gli è scoppiato vicino alla mano Appena E gli è scoppiato Tutto il braccio Tutta questa parte E che era una bomba Che era? No Era il bottone Ma vabbè Solo con la miccia Questi sono i regali Metti qua Metti qua I new Pacchetto Piro tecnico 20 20 Per 2,50 euro Buono 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 Dai Andiamo avanti Ma tira pari sta busta Intanto Dai mettila qua Così Eccola qua Questo era quello Che non aveva comprato botti Gente Eccola qua Poi Mettiamo un attimo A posto il volo Rivediamo Poi dai ci abbiamo I magnum Eccoli qua Mamma mia Pure questi L'abbiamo fatti prima Questi sono Meno potenti Di questi Ok E sono Dai Questi qua I fredardo flash E sono i magnum Sì Ecco ancora Ora ragazzi Ci abbiamo I fumaggi White Bianco Orange Sì Per creare un po' Per fare un po' Del bordello Per tirare rumore Coloriamo tutto Noi Questo è blu Blu E questo è Uno due Quanti sono bomber Facci Uno due Sei Per sette euro E apposta Qua c'è yellow Giallo Green Verde E red Rosso Rosso Red Se non ricordo male Rosso Andiamo avanti Vabbè Ancora il storm Quelli che c'è Io Ok Altri pacchetti Di storm Metti 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 Qua Che poi Poi Vediamo Prima Ragazzi Poi Abbiamo Le palline Fumogene Le palline Fumogene Ah beh Queste non le apri Dai Mettiamo qua Sì capisco No Queste non sono Le fumogene Sono quelle che scoppiano Bomber Fanno tutte Schiopetiti Tutta 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 Perfetto Andiamo avanti Poi La busta magica Del bomber Ma quante le apri Si rimane Un baricco Vai Sono gli stessi Metti davanti Dai Qua Così Qua No Sotto Qua Così vediamo Ecco qua Dopo Tutto Quindi Questi Questi Raga Questi Senza che li apri Si capiscono Questi sono I trick Track I trick Track Quali sono Questi Facci vedere Bomber Queste qua Ah sì 10 colpi Da 40 pezzi Da 40 pezzi Ciascuno Ottimo Questi pure Anzi Sono belli Che può 21 Poi ragazzi Abbiamo questi Che non ho mai capito Quali sono Questi sono Gazza scoppiettante Sono tipo Pure quello Di trick E track Credo Senza che li apro Si vedono Ragazzi Quindi questi Abbiamo aperto I trick E track Sì 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 Abbiamo capito Vai Andiamo avanti Questi 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 di che cosa sono Questi li ho presi io Non lo so Mi piacevano Quelli li sono Sì questi li butti per terra Le fanno Tutte queste cose così Tira fuori Tira fuori Queste so perché Ce ne so anche i bambini Un pochetto più piccolini Fanno sempre colore Sempre festa Vero Bomber Yes Yes Qua Qua Yes Mettiamo qua Cos'altro Cos'altro Allora ragazzi Noi qua abbiamo pure preso Abbiamo preso I pop pop I pop pop Sono simpatici Pure da interno I bambini che abbiamo fatto Prima con Ricky Sì Questi sono tipo Queste palline scoppiettanti Bomber Questi sono piccoli Così Poi butti E fanno tutto Tira 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 Qua qua Metti qua Scoppiettanti Vai Cos'altro Bomber Guardate là Ragazzi Fontana Fontana Butterfly Quanti sono Quattro pezzi Sì All'aperto Ovviamente All'aperto Bisogna fare Vai Fontana Butterfly Poi Poi Lì che mi è cascato Uno di questi C'è un pop pop Vip pop Cos'è questo? Ancora Nevicette Sì Vai Che tra Palline ancora Scoppiettanti Qua Vai Scoppiettanti Ragazzi Quest'anno Vabbè Quest'anno Che in 31 Si fa un video Che è una misera Almeno Altre fontane Altre fontane Dove le mettiamo Qua Qua Bene Così Così poi Inquadriamo Il nostro Il tuo arsenale Bomb Guardate 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 Altri storm Qua davanti Vai Altri storm Madonna Raga Mi dice Mi dice Cosa Vedete Non ne sono Senza Ve li faccio vedere E mettiamo Sarebbero gusti Cosa sarebbero Ok Poi Dove li metto Ricco Qua Vai Cos'altro Cos'altro Il poppo pop Ancora Poppo pop Vai Le madrini Altri due pacchetti E poi i fiorellini Poi i fiorellini Ci siamo Ci siamo Super bomber Perfetto Ragazzi E' veramente Tanta roba Pensavo Che quest'anno Si scoppia Dai E poi Ognuno porta Una busta Così Quindi Sarebbero 50-60 persone 50-60 Se ognuno porta Questo Finimo E la settimana dopo Vabbè Ragazzi Sulla descrizione Vi farò sapere Quanto è il totale Di tutti i botti Per 60 persone Questi Per 60 persone E ragazzi Ci sarà da divertirsi Vero bomber Comunque Mi raccomando Una cosa importante Iscriviti al canale Ok Prima di questo Che forse C'è qualcosa Di più importante Bomber Quello lo dici dopo Una raccomandazione A tutti Perché Quando si fanno Queste cose Bisogna usare Che cosa La tua testa Perché Sempre un mio amico No Lascia stare Gli amici Le cose Ragazzi Usate la testa Perché È bello Divertirsi Ma bisogna Farlo in totale Sicurezza Quindi bomber Vero Massima sicurezza Bisogna Un giorno di festa Bisogna divertirsi Non bisogna Assolutamente Farsi male Vero bomber Yes ragazzi Yes ragazzi Vai Ed ora Ci vuol dire Iscrivetevi Ragazzi Iscrivetevi al vostro canale Ragazzi L'ho appena montato Sono 24 Dobbiamo fare 24 per 60 E poi ve lo faccio Sapere nella descrizione Ok Ragazzi Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate like Sotto Gli video Spolliciate A più Un po' Condividete Questo video Mi raccomando Questa maglietta Mi piace Bomber Lo sai Spolliciate Spolliciate I commenti Iscrivetevi E condividete Condividete Ragazzi Questi sono I miei doppioni Poi un giorno Farò anche un video Su doppioni Ok Questi sono I nuovi doppioni Delle figurine C'erano pure Alcuni della Roma Ok Perfetto E c'ho pure Questa doppione Ottimo Si che mo Non c'entra Quei botti Di Capodanno Quindi Un saluto Da parte di Rick Ciao ragazzi Al prossimo video Ciri ciao Gente